Come al solito ragazzi mi hanno interrotto la registrazione Ho riempito con il gasolio Abbiamo fatto tutto qui E finalmente possiamo Almeno io spero, prego Partire da 3, 2, 1 Ah Speriamo Tra 3, 2, 1 Ho capito Oddio Dove cavolo sta la chiave Ecco, bene Ok, vediamo 3, 2, 1 Ragazzi Stiamo partendo Ah ma lo devo spaccare Sì Stiamo scappando Stiamo scappando Stiamo scappando Prova di nuovo quando Granny è a casa Che vuol dire? Aspettate un attimo ragazzi Ma Quando ha ucciso Granny Lei aveva una sorta di chip Lei non era un fantasma Erano zombie E gli zombie Nel mondo dei videogiochi Si comandano tramite Dei chip Ma chi è che la comandava? Forse è stata lei Certi segreti Certi segreti Meglio tenerli dentro la scatola Che vuol dire? 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 Grazie.